Deve rinviare l'appuntamento con la prima vittoria a Casalinga il Teramo nella Serie 1 di Pallamano Donne. Al Pala San Nicolò era chiamata al successo in un match importante contro Padova. La compagina prutina che invece perde e si fa aggaggiare in classifica proprio dalle Venete alla prima gioia della stagione. Una sfida sostanzialmente equilibrata con le ospiti che comunque hanno giocato con determinazione, volendo fortemente i due punti. Padova avanti 3-6 nella prima frazione in avvio. Qualche problema per Teramo in zona offensiva fino a quando entra nel vivo del gioco Tami Ammar che segna quattro reti di fila e fa mettere le bianco-rosse il naso avanti per la prima volta 10-9. A riposo si va in parità con la rete della Pugliara proprio allo scadere 13-13. Buon avvio di ripresa per la squadra di Daniela Pallarie che sembra trovare continuità ma che non va mai oltre la singola rete di vantaggio. Padova al contrario reagisce bene e con Borrini e Prella sugli scudi torna a condurre operando un break decisivo 22-26. A pochi minuti dalla fine la reazione di Teramo c'è. Si arriva a meno 1-25-26 prima della marcatura conclusiva. Diocori che chiude i giochi 25-27. Il finale Padova esulta. Teramo si dispera. Teramo si dispera.